Vuoi realizzare anche tu questi bellissimi elementi decorativi per le fotografie a tema maschio-femmina? Allora, sei nel video giusto? Ciao fanciulle e fanciulli e bentrovati sul mio canale Passione Creativa. Io sono Maria ed oggi vi mosso un tutorial facile e veloce per realizzare queste decorazioni. Dopo aver scaricato e stampato le immagini che state vedendo, trovate nella info box i link per scaricare questi file in modo gratuito. Con una forbice o un taglierino, ritagliamo tutti gli elementi decorativi. Prendiamo del cartoncino un po' più spesso, questo è da 260 grammi. E incolliamo le nostre sagome, prestando particolare attenzione ai bordi. E ritagliamo, lasciando un bordo di 2 mm. Ripetiamo questa operazione per tutti gli elementi. Terminata questa fase, avremo bisogno di alcune fustellate in carta da 160 grammi. Io ho utilizzato la mia mini fustellatrice, la Littol. Vi lascio il link del video qui in alto e giù nelle info box. Stecchi di legno per spiedini, colla aceto vinilica e un po' di nastro biadesivo. Applichiamo sul retro i nostri bastoncini, avendo cura di nascondere la parte appuntita sotto la fustellata di carta. Posizioniamo e blocchiamo il tutto con un po' di nastro biadesivo. Mettiamo la colla, pieghiamo a metà il nostro disco di carta e facciamo aderire bene. Ed ecco fatto! Nulla di più semplice, vero? Come prima, ripetiamo la stessa operazione per tutti gli elementi decorativi. Se il video ti è piaciuto, regalami un bel like. Ricordati di iscriverti al mio canale e attivare la campanella delle notifiche. Ma soprattutto, grazie di aver guardato il video fino a questo punto. Un grosso bacio e ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti